riusciamo a prendere la taglia e eccomi in capo a bordo ma hanno il camion mi sa sono quelli col camion mi sa che li vedo li vedo usami l'rpg cico non ce l'ho più faccio un lavoro una terra una terra una terra lo so guidare io vai torna su torna giù ricordo uno fatto l'ho ucciso l'ho ammazzato non ho possibile che cazzo fatto no ragazzi siamo primi no non siamo primi non siamo primi madonna quanti soldi hanno quelli che c'è l'altro nel pullman 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 ne ha distrutto c'è ne avete anche uno sotto siamo fottuti ok ok ho fatto il miglioro ha fatto il miglioro bella bella e io sono bro sto andando la cassa vai 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 ah perchè king ha addosso tipo no non sono i king ma sono grossi io con chi vado uccisi due uccisi due ucciso tutto il team boh siamo primi ucciso anche l'altro via aspetta che mi cura aspetta che mi cura dai l'hanno fatto l'hanno fatto l'hanno fatto degli altri sono un lanceronato e un cecchino via attento no no scappa è un botte di soldi bro scappa io posso sentire di 50k no non riesco a scappare sono circondato o venite voi o io non posso morire e io sto correndo ammazza eh no niente non puoi ammazza prendi una un edif un prendiamo prendiamo i la macchina la macchina morto 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 siamo a due milioni boys due di fila così a caso due milioni raga ma due milioni ma cosa vuol dire due milioni raga ma due milioni ma come abbiamo fatto il minimo indispensabile eravamo insuperabili bro cioè abbiamo annichiliti sto giro raga non era possibile superarci qui cioè è impossibile fortissimo ho fatto un milione da solo raga no perché quando vende solo hai ucciso tipo tutti e hai fatto 500 milioni solo in quel pezzo cioè 500 milioni si 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 dietro di te morto 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 stava facendo una cazzo di agguato un cazzo di agguato dietro di me dietro di me aiuto arriva un mezzo per il deposto ma l'ho visto è sul tetto ma l'ho visto è sul tetto vuoi combattere con la tranzi? no vai via 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 andiamo via stile in discesa in discesa occhio in alto qui anche a me anche a me l'altro dietro fuori 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 ricordo il carico depostato aaaaa 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 boh droppati su di massimo siamo secondi eh sono droppati su un po' c'è una de- no ho trovato puoi raggiungerti ma che cosa è sta schifezza raga? chi l'ha messa? Si dice di entrare qua Mi hanno proprio sparato nella coda Mi soffrendo Mamma mia Mi hanno sparato Mi hanno contato Mi hanno contato Radar personale No Come ha fatto a uccidermi? Nemico sul ping A terra Uno Siamo prime Sono morto Non ci sono più primi Di poco No mi sa che vincono loro Ci superano perché stanno Eh si sono prima Sono prima Ho trovato una cassa Aspetta Prendila Bella No bro No 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 bro No bro No 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 Nessuno bro Bro L'hai presa Quando mancava tipo un secondo Ha fatto 20 kg Un secondo mancava bro Un secondo Fra Una cassa è sceso fra uno what ok uno l'atterrato morto 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 c'è l'elicottero ok saliamo qui è alterato ma c'è un altro arrivo arrivo aspetta sono morto dal tetto dell'hangard morto morto tutto ti è magnetato hai preso il suo aspetta hai risposto l'ho preso si è ci spavano stiamo arrivando bro c'è arrivo il truco ha tirato un coltellino lancio cliccando lo tipo l'ho ucciso morto morto dove sono pingali pingali piuttosto ucciso fra i primi sono stati scopati siamo primi noi adesso guarda la raga no ho un tizio qui morto bravissimo sono proprio dall'altra parte della mappa scopati che cazzo ti beghi coglione mentre spari pezzo di stronzo muori bro no ti ho tre smoke e fugo dalla finestra bro vai scappo dalla finestra vai il primo rover scappo scappo con rover ci ho chiamato vieni qui no bro mi ho atterrato mentre vieni in macchina io 100.000 bro non possiamo perdere 160.000 vieni qui vieni qui che anche io i soldi adesso sei nuli chi ci fa che nuli ho tre team ho un team pieno addosso ho un troppo il più possibile ucciso sono morto ma ho droppato a terra uno quello con l'elicottero mi vedo appunto io gli altri non li vedo sono un altro libero a terra un altro bro un altro più avanti è eliminato di nuovo in testa abbiamo vinto no dai no dai si è diventato dei maestri si è diventato dai tancio il terrore di questo server non c'è niente da fare cioè stai vigendo letteralmente tutte e siamo in due il terzo non fa letteralmente niente sta solo da solo guarda lui ha fatto 89.000 ha fatto 5 kill ma tu hai fatto 549.000 io ho lotato un sacco di soldi esatto esatto un sacco di soldi